Il Centro Studi Namaste di Purutipara, finanziato dalla ONLUS Farmacisti in Aiuto, da molti anni offre gratuitamente il dopo scuola a oltre 60 bambini seguiti da 7 insegnanti. Nelle famiglie di Purutipara, povere e di casta bassa, l'analfabetismo è molto presente e quindi non riescono ad aiutare i figli negli studi. Durante la nostra visita al Centro Studi, i bambini e i ragazzi ci hanno accolto anche con conzoni e danze. Grazie! 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 Come are you? I'm fine, thank you! Grazie! Grazie! You enjoy this journey? Yes! I enjoy this journey, of course! Grazie! Vi chiediti! Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.